La dattilografia è la tecnica di scrittura veloce nata prima a macchina ed è evoluta poi sulla tastiera del computer. La dattilografia è una disciplina professionale completa che ha avuto una grande evoluzione ed è entrata in ogni settore lavorativo, per cui è molto importante per chi vuole conoscere i segreti della scrittura corretta, precisa e veloce. Conoscere le tecniche di dattilografia dunque consente di lavorare meglio e aiuta a mantenere una postura corretta nelle braccia e nella schiena. Ciao e benvenuto su Alter Edu, io sono Alessandro e su questo canale trovi tante guide e consigli sul mondo della formazione e del lavoro. Infatti Alter Edu è la più grande piattaforma di corsi online certificati in Italia, con un catalogo di oltre 800 corsi online. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone e alle aziende la formazione professionale che cercano per migliorarsi e certificarsi. Prima di parlare nel dettaglio della dattilografia, sappi che nell'ultimo bando il corso è stato valutato un punto in graduatoria ATA. Ecco perché questo corso è utilissimo per prepararsi al prossimo bando per personale ATA del 2024. Questo bando permetterà l'assunzione delle nuove figure professionali all'interno delle istituzioni scolastiche. Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, gestionali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. Al giorno d'oggi avere una figura come il personale ATA nel mondo della scuola è fondamentale per poter avere tutte le attività di gestione, dalle più semplici alle più complesse, ottimizzate al meglio. Lo stipendio di una figura che fa parte del personale ATA dipende dall'ammontare di ore in cui è chiamato a prestare il suo servizio e quindi dal tipo di contratto che viene stipulato. Se facciamo riferimento al contratto collettivo nazionale che si applica al personale ATA, si evince che ad una tale figura, assunta a tempo pieno, spetta uno stipendio a no lordo di 15.000 euro. Come sappiamo il bando per personale ATA viene indetto ogni tre anni. L'ultimo è stato pubblicato nel 2021 e quindi sarà valido fino al 2023. Nel 2024 verrà inetto un nuovo bando con l'assunzione di nuovo personale. Il nostro consiglio è quello di iniziare a seguire dei corsi in grado di dare punteggio per l'aerodotoria, proprio come quello per dattilografia di cui stiamo parlando. Parliamo ora di questa professione. La dattilografia nasce con l'arrivo delle prime macchine da scrivere nel 1876. Questi strumenti vengono impegnati soprattutto dalle aziende più all'avanguardia che iniziano a ricercare un nuovo tipo di professionista, il dattilografo, ovvero colui che è in grado di comporre dei testi in modo veloce, efficace e preciso. Negli anni la professione si è evoluta ed oggi un dattilografo è una persona esperta che utilizza la tastiera del pc per scrivere testi rapidamente e senza errori di battitura. Inoltre è anche esperto in data entry, ovvero nell'inserire una vasta gamma di dati per vari scopi, fogli Excel, fogli Google, database e molto altro. Nell'ultima graduatoria ATA la certificazione rilasciata da un ente accreditato perso il MIUR per il corso di dattilografia è stata valutata un punto. Ecco perché questo corso è l'ideale per il personale ATA che vuole aumentare il proprio punteggio in graduatoria, ma anche per giornalisti, blogger, scrittori e chiunque altro voglia migliorare le proprie capacità di scrittura sulla tastiera e rendersi più competitivo sul mercato del lavoro. Il corso di dattilografia ed altera 2 è svolto completamente online. Si tratta di un corso certificato che rilascia punteggio riconosciuto dal MIUR poiché è istituito da ente pubblico, il comune di Terrasini, con delibera dell'aggiunta municipale numero 10 del 31 gennaio 2020, aggiornata il 28 ottobre 2022. Quindi con la certificazione finale otterrai un punto in graduatoria per personale ATA. Il corso di dattilografia online di Alteredo ha una durata di 200 ore ed il programma comprende un'introduzione sulla tastiera e la sua storia, la posizione delle mani e delle dita sui tasti, la postura ed un'ampia sezione dedicata a tutte le abbreviazioni da tastiera, sia sui sistemi Windows che Mac. Il corso è arricchito da esercitazioni di diverse difficoltà per guidarti di un miglioramento graduale della tua scrittura. Al termine del corso potrai accedere al test finale a risposta multipla, anche questo svolto completamente online. Superato il test finale otterrai la certificazione valida un punto in graduatoria personale ATA. Quindi cosa aspetti? Iscriviti subito e ottieni anche tu la certificazione. In descrizione trovi i link con tutte le altre info sul corso online e le nostre guide. Se hai altri dubbi lascia un commento e se il video ti è piaciuto condividilo e iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!